Buongiorno a tutti elettronauti, anche oggi ho delle notizie super succose per voi. Parleremo un po' di Tesla e del suo autopilot, ma non solo. BMW, Aston Martin, Porsche, Xpeng, Lancia Delta, DS, Cupra e sì, auto volanti. Insomma, il futuro sarà pieno di sorprese e soprattutto di auto elettriche. Ma siamo veramente pronti? Beh, noi siamo pronti per le news di questa settimana, quindi amici partiamo. Io sono Matteo Valenza, benvenuti in questo nuovo video. Prima di cominciare ragazzi vorrei ricordarvi dell'evento a cui parteciperò ad ALA in Trentino il 26 settembre. Mi raccomando, venite in tanti perché ci sarà da divertirsi. Trovate tutte le informazioni in descrizione, i posti sono limitati, quindi lasciate i vostri dati per prenotarvi. Ma cominciamo subitissimo perché di cose da dire ce ne sono veramente moltissime. Partiamo da Tesla che piano piano sta facendo veramente passi importanti nel suo sviluppo della tecnologia di guida autonoma che come vi ho già detto un paio di settimane fa è sotto la lente di ingrandimento da parte dell'organo americano che gestisce le autostrade che ha messo tra il registro degli indagati Tesla per alcuni incidenti sospetti. Elon Musk ha dichiarato che nel giro di una settimana ci sarà un aggiornamento molto importante che vedrà passare la versione di Autopilot beta da 9 a 10 ed anche se in molti stanno chiedendo di accedere al programma di test del sistema e addirittura del rilascio al pubblico Elon Musk ci va con i piedi di piombo dicendo che c'è bisogno di un test approfondito prima del rilascio al pubblico perché la sicurezza dei suoi clienti viene prima di tutto. In ogni caso il test lo stanno facendo i suoi clienti, mi sembra un po' un controsenso però diciamo che l'azione legale che c'è contro Autopilot in questo momento sicuramente non giova alla società e limita parecchio la sua libertà di movimento. Elon Musk però non molla e per far vedere che veramente ci tiene molto alla sicurezza dei suoi clienti e delle sue auto ha introdotto con un nuovo aggiornamento una parte di intelligenza artificiale in abitacolo capace di vedere attraverso la telecamera posta sopra lo specchietto retrovisore. Questa telecamera segnalerà se il guidatore è attento o meno durante le sessioni di Autopilot facendo uscire un messaggio di errore e richiamando così il guidatore all'attenzione. Funzionerà in tempo reale quindi non sarà più possibile distrarsi. In America alcuni lo hanno testato e sembra che rilevi la posizione del capo quindi se abbiamo il capo chinato o se guardiamo il cellulare l'auto ci richiamerà all'ordine e in caso continuassimo imperterriti a trasgredire rallenterà, si fermerà e metterà le quattro frecce. E fino al prossimo viaggio non sarà più possibile abilitare Autopilot. Direi che questo permetterà a Tesla di rendere ancora più sicure le sue auto ma d'altra parte probabilmente farà diminuire anche drasticamente l'uso di Autopilot. Ma andiamo avanti e lasciamoci alle spalle Tesla. Il gruppo BMW ha confermato che il prossimo anno lancerà le versioni elettriche di serie 7, 5, X1 e Mini Countryman Electric e saranno già disponibili proprio dal 2023. Ancora non abbiamo nessuna odizia in merito riguardo alle caratteristiche tecniche o altro ma prima del 2025 BMW ha confermato che presenterà il suo primo modello basato sulla sua nuova piattaforma New Class progettata principalmente per veicoli elettrici. Sarà in grado però di sopportare anche propulsori a benzina e diesel ibridi preghine e il suo utilizzo sarà previsto per modelli BMW e Rolls Royce. Molto interessante quindi controtendenza rispetto a tutte le altre. BMW sta lavorando ad una piattaforma senza compromessi come dicono loro che vada bene sia per propulsori elettrici che per idrogeno, benzina e diesel. Io non sono un ingegnere ragazzi ma non credo che questa cosa sia proprio senza compromessi. Comunque staremo a vedere. BMW ha anche comunicato che le nuove auto saranno dotate di una nuova architettura IT e software con una trasmissione di nuova concezione ed una generazione nuova di batterie. Tante belle parole insomma. E chi invece ha poche parole è Tobia Moers il CEO di Aston Martin che senza alcun problema ha affermato che il marchio non è ancora pronto per entrare nel settore delle auto elettriche e sicuramente non sarà un problema aggiungo io non c'è bisogno di supercar elettriche al momento quindi Tobia puoi stare tranquillissimo noi aspettiamo non ti preoccupare. C'è chi invece è più attizzato che mai ed è la direzione di Porsche che sta preparando un corposo aggiornamento per la sua preziosa Taycan che nel 2022 arriverà finalmente con il supporto per Android Auto, il Remote Park Assist, uno specie di summon comandabile da telefono, un nuovo assistente vocale, una rinnovata user experience del sistema operativo, mappe più fluide e un sistema di raffreddamento del pacco batterie aggiornato che porterà Taycan a ricaricarsi ancora più velocemente sarà quindi capace di sopportare accelerazioni continue ed avere anche più autonomia. Ah e come ultimo aggiornamento sarà disponibile ben 65 nuove colorazioni. E passiamo da un'auto che ha ormai fatto storia e fatto parlare tanto di sé appunto la Taycan ad una che farà parlare ancora più ma che al momento non è ancora arrivata in Italia. Sto parlando della X-Peng che però finalmente arriva ufficialmente in Norvegia e si posiziona nella stessa categoria di Model 3 ma costa decisamente meno. 42.000 euro per il modello P7 con due motori a trazione integrale, autonomia di 530 km, guida assistita di livello 2 e tanto altro. A me piace parecchio, voi che ne dite? Ma torniamo a parlare del futuro, vi ricordate la settimana scorsa che vi ho parlato di Lancia Y non elettrica e vi ho accennato anche a Lancia Delta? Bene, altre indiscrezioni dicono che sarà elettrica, io mica l'avevo capito che sarebbe stata elettrica, ma non so, forse è un peccato, io avrei voluto vederla con un bel motore Ferrari, un brum brum, vabbè dai, a parte gli scherzi, peccato, comunque sarà in ogni caso a trazione integrale, monterà una batteria da 80 kWh e avrà circa 400 cavalli. Staremo a vedere ma se questo render che state vedendo sarà confermato non so, forse sarebbe meglio lasciarla lì dov'è. Sapete ragazzi, io al Deltone ci sono molto affezionato perché è un'auto che ho vissuto in prima persona, mio padre aveva l'HF integrale ed era una bomba, probabilmente ora se avessi i soldi me la ricomprerei e pensare che l'abbiamo venduta per soli 20 milioni di lire. Eh, la sfiga a volte eh? Cambiando discorso sono molto felice che abbiano ripreso a fare le fiere, di questi tempi distrarsi un po' non fa male e per l'appunto Cupra ha annunciato che durante il Salone di Monaco verrà presentato un nuovo prototipo chiamato Urban Rebel, una city car full electric, tre porte che verrà lanciata e commercializzata nel 2025. Speriamo però prima. Ma lasciamo per un attimo gli automaker per andare da Envision Group che ha progettato dei robot mobili in grado di raggiungere le auto parcheggiate per ricaricarle. Questo robot che state vedendo si chiama Moki e l'azienda è convinta di riuscire a testarlo già quest'anno per le strade di Shanghai. Ma ve lo immaginate? Sembra quasi di vivere dentro un film di fantascienza. In pratica questi piccoli robot sparsi ovunque per la città gireranno autonomamente e troveranno le auto elettriche e le ricaricaranno. Eh, non credo che sarà facile che arrivino anche in Europa ma valeva la pena comunque parlarvene. E torniamo a parlare di un marchio di automobili, DS, che ha dichiarato di voler vendere già nel 2024 solo auto elettriche e che si è già al lavoro su una piattaforma di nuova generazione che si chiamerà STLA. Quasi un anagramma di Tesla. Vabbè, in sostanza la prima auto elettrica che vedremo del gruppo con questa nuova piattaforma sarà una versione della DS4 con una batteria da 104 kWh a 400 Volt, con un'autonomia di 700 km ed un'efficienza media di 149 W al km. Beh, se fosse veramente così sarebbero proprio niente male. Voi? Cosa ne pensate? Vi piace questo marchio? Avete visto il video che feci con DS3 E-Tense? Ma torniamo ora per un attimo a parlare di piccole cittadine e lo facciamo parlando di HCM CityOne, una micro city car rivoluzionaria. Avrà 10 kWh di batteria formata da 4 moduli da 2,5 l'1, estraibili singolarmente e sostituibili con altri moduli già carichi in soli 3 minuti. Dalla sua ha un design retro gustoso, simile molto a Fiat Panda e a Honda e con un pizzico anche di Suzuki Ignis. Interamente però lascia veramente a desiderare. Hanno dovuto chiaramente fare salti mortali per mantenere un prezzo interessante che si aggirerà attorno ai 10.000 euro, incentivi esclusi. Beh, non sembra affatto male. Voi che ne pensate? E per chiudere vi lascio con un'autizia sconcertante che ci porta veramente nel futuro. Sto parlando di Voyager X2 di Xpeng che ha fatto un volo di test esattamente una settimana fa. Sì, un volo ragazzi. Xpeng non sta solo sviluppando auto elettriche ma bensì anche auto elettriche volanti, droni diciamo con passeggeri a bordo. Sì, Voyager X2 è appunto un drone del peso di 400 kg capace di trasportare due persone per un totale di 200 kg per circa 35 minuti ad altezza inferiore di 1000 metri e con una velocità massima di 130 km orari. Io avrei una paura folle, ma sarà veramente così il futuro? Ci aspettano tempi assurdi ragazzi. Personalmente preferirei un motore diverso rispetto a delle pale che ruotano vorticosamente, pericolosamente vicino alla carlinga, preferirei tipo un motore a reazione, non lo so, un drive, no? Quello funziona solo nel vuoto. Vabbè, comunque, vedremo. Diciamo ragazzi che se vi dovrò fare la recensione di questo porterò un paracadute e speriamo abbia anche i sedili iettabili. Eletronauti, direi che il tempo per le news elettriche di oggi sia finito qui. Vi ringrazio come sempre di aver passato queste 10 minuti con me. Spero che continuerete a scegliermi ogni martedì e venerdì alle 12 con un nuovo video sulla mobilità elettrica, alle 10 con le news riassuntive della settimana e ogni domenica alla sera alle 21 con una live per fare un paio di chiacchiere. Ragazzi, vi saluto. Grazie.